ciao a te lovers nuovo video nuova auto oggi sono qui per presentarvi subaru impresa xv nell'allestimento adventure linea tronic un modello con motore b fuel benzina e gpl e 2000 di cilindrata si tratta di un veicolo aziendale che ha avuto un solo proprietario dirigente di casa madre subaru che l'ha trattata veramente benissimo infatti già da un primo sguardo notiamo che la carrozzeria è perfetta il colore è un nice silver un grigio metallizzato molto chiaro perfetto per queste calde giornate estive infatti non attirerà eccessivamente i raggi solari molto accattivante il taglio allungato di questi fari assieme alla classica calandra subaru cerchi in lega da 17 pollici in ottime condizioni inoltre se ci avviciniamo e prendiamo la misurazione notiamo che anche il battistrada è perfetto infatti un valore maggiore uguale a 9 mm indica un buono pneumatico in buono stato i vetri posteriori sono oscurati proprio come il 1 8 occupiamoci ora dei consumi i dati rilevati indicano che quest'auto percorre in media 11,5 chilometri con un litro diamo ora uno sguardo al bagagliaio da 385 litri di questa subaru certamente non un bagagliaio estremamente capiente ma vi permetterà di caricare comodamente a bordo fino a quattro trolley ottimo quindi per le prossime partenze estive inoltre quando lo spazio non vi dovesse bastare è sempre possibile abbattere i sedili posteriori e arrivare in questo modo una capienza di 1310 litri diamo uno sguardo al lato posteriore del veicolo certamente lo spazio bordo non manca il viaggio per i passeggeri posteriori sarà quindi comodissimo inoltre sono presenti gli attacchi isofix su entrambi i sedili laterali posteriori perfetti per le famiglie diamo ora uno sguardo al lato anteriore del veicolo che è praticamente nuovo abbiamo questi sedili in tessuto molto ricercati davvero morbidi e comodissimi la plancia è in simil pelle proprio come il volante sul quale troviamo il cruise control il comando vocale e il comando per le chiamate ora accendiamo il quadro notiamo che il veicolo ha percorso 70.700 chilometri occupiamoci ora del sistema di infotainment abbiamo questo schermo touch dal quale possiamo accedere alle funzioni di radio media e telefono tramite connessione bluetooth abbiamo anche l'utilissimo app connect che ci permette di collegare il nostro smartphone per accedere a ulteriori funzionalità clima è automatico ed è molto intuitivo con le varie opzioni a seconda del tipo di funzione di cui abbiamo bisogno il cambio è automatico e non appena inserisco la retromarcia se attiva un optional utilissimo ovvero la retrocamera il computer di bordo in mostra all'area di manovra e in questo modo sarà davvero semplicissimo parcheggiare e con questo amici abbiamo finito come avete visto si tratta di un veicolo perfetto per quelle famiglie che hanno particolari esigenze di spazio e vogliono muoversi in tutta comodità ne abbiamo solo una disposizione quindi se siete interessati andate sul nostro sito ratti auto.com dove potrete bloccarla con soli 100 euro inoltre vi ricordo la possibilità del test drive e della consegna domicilio con igienizzazione come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale ad attivare le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati al prossimo video alla prossima auto